Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per lavori fino al 28 febbraio, chiuso in direzione Bologna, il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. In direzione Bologna ci sono rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta per lavori e tra Calenzano e Barberino per un veicolo in avaria. Sulla Statale 1 Aurelia è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in direzione Livorno. Su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. A Firenze, per interventi di manutenzione alle colonnine di ricarica per veicoli elettrici, stasera non saranno funzionanti dalle 22 all'una. I treni, a causa di uno sciopero in programma fino alle 21 di stasera, potranno esserci variazioni, cancellazioni e ritardi. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!